Oggi è un grande giorno per Piera Maggio. A rendere felice una mamma, a volte basta un piccolo gesto di solidarietà. Poche persone hanno trovato il coraggio di esporsi pubblicamente contro l'archiviazione del caso. Ma questo pomeriggio, inaspettatamente, qualcuno si è schierato dalla parte della Maggio. Stiamo parlando dell'aurora a calcio di Mazzara che ha scaldato il cuore di Piera, che ha subito ringraziato l'associazione sportiva scrivendo «Ringraziamo di cuore l'aurora a calcio di Mazzara per il pensiero avuto». L'associazione ha organizzato un derby tra Aurora Calcio e Città di Mazzara. Presenti alla partita la mamma Piera Maggio ed il papà Piero Pulizzi. La partita è stata dedicata a Denise Pipitone, scomparsa a Mazzara del Vallo il 1 settembre 2004. I giocatori hanno portato in campo uno striscione contro la proposta di archiviazione delle indagini da parte della Procura. Speriamo che questo gesto di solidarietà, assieme alla manifestazione che si svolgerà domani, possano donare un contributo per evitare che le indagini sul caso vengano interrotte. Ricordiamo infatti che il 14 novembre si terrà a Roma, una manifestazione pacifica, organizzata da Valentina Vacca. Secondo voi, in questo modo si potrebbe evitare la decisione di archiviazione del caso? Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.